Venezia. Anche la venticinquesima mostra d'arte cinematografica si è conclusa con una grande affermazione del cinema italiano. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la presentazione dei film in concorso e le discussioni sulla mancata partecipazione coreografica delle grandi dive, questa venticinquesima edizione del Festival Veneziano si è conclusa con un bilancio lusinghiero e positivo. Al Palazzo del Cinema applausi per Michelangelo Antonioni, vincitore del Leone d'Oro di San Marco e autentico trionfatore del Festival Veneziano col film Deserto Rosso. Vieni, ci presento un amico, vignor Zeller, mia moglie. Per fortuna il camera non è bloccato. E si è fatta molto male? No, molto male no. Qualche contusione, più che altro lo shock, uno shock tremendo. Vieni, ci presento un mio obiettivo. Vieni, ci presento un amico, in cui molto bene, più che altro lo riesgo. Vieni, ci presento un amico, in cui non è bloccato. Vieni, ci sento un amico, in cui mi piacere il nostro coraggio d'interdito. Sono le uova di quaglia E' vero, sono afodisiache Fai fetto subito? Se fai fetto subito, mangia anche le altre Io ho voglia di fare l'amore Sono riuscita perfino A essere una moglie infedede Sì 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 Grazie a tutti